eccoci siamo questo bell'appartamento che quale si entra in questo ingresso su quale facciano tutte le stanze abbiamo prima di tutto una dispensa poi la sala molto ampia spaziosa tutto l'impianto a norma sfidabile dalla sala tramite infissi a doppio vetro nuovi in pvc si accede al balcone balconata lunga con le corde per stendere che prende tutta l'estensione dell'appartamento torniamo indietro e vediamo il resto della casa quasi insieme nella sala questo è l'ingresso visto da un'altra prospettiva qui abbiamo la cucina con la sua calderina per l'acqua calda anche di qua abbiamo l'accesso al balcone una cucina carina ecco e qui abbiamo la camera da letto matrimoniale molto ampia sempre con accesso al balcone in tutta la casa lo scaldamento centralizzato con termo valvole questo è il bagno adesso non c'è la luce comunque è nuovo sanitari nuovi un bel box doccia aree condizionata è tutto